Ciao, buongiorno, io sono Rocco Manfredi e faccio parte della compagnia di Spensa Barzotti, che è una compagnia che risiede in Francia dal 2019 e si basa sull'utilizzo della magie nouvelle del teatro e del circo contemporaneo. Qui a Kilowatt portiamo lo spettacolo The Barnard Loop, che è stato in residenza nel 2018 al Teatro della Misericordia ed è uno spettacolo, tout public, cioè per tutti, che racconta di una notte d'insonnia di questo personaggio, che si trova appunto a perdere la concezione tra il vero e il falso, tra la realtà e il sogno, e quindi si trova sempre più sommerso da accadimenti magici e eventi surreali. E quindi, diciamo, di questi paradossi inaccettabili che sono un po' il fil rouge di questo spettacolo, questo connubio, in cui intanto già si lavora soprattutto sul clown, quindi il connubio tra il clown, la magie nouvelle, il teatro, il circo e il mondo. È stata fatta una residenza nel 2018 e adesso è come se si chiudesse un cerchio oggi e si aprisse poi una spirale infinita. Giusto?